Quando si dice nazionale in Italia si pensa alla nazionale di calcio, la casa della nazionale di calcio Coverciano, il museo del calcio e con noi il direttore del museo del calcio di Coverciano è un piacere avere con noi Maurizio Francini. Buonasera a tutti i telespettatori. Nuovo allestimento, nuove sale, nuove luci, si rinnova, abbiamo visto elementi di calcio e vedremo le maglie della nazionale come sono cambiate con il tempo, cambia anche il museo. Sì, abbiamo colto il momento del lockdown, della chiusura forzata per trasformarla in un'opportunità di modernizzarci, di rinnovarci, di ripensare a tutta l'esposizione e siamo veramente ansiosi di riaprire per confrontarci con i visitatori, per avere la loro opinione, per avere il loro gradimento o meno, sperando di no, di aver centrato l'obiettivo e quindi siamo veramente vogliosi di riaprire. È vero che i mondiali hanno scandito la vita di ognuno perché il mondiale magari ricordano a qualcuno un evento della propria vita che lo ha segnato. Personalmente il mondiale dell'82 è anche un conseguimento di una maturità. Però la nazionale attestano queste maglie, questi cimeli, attestano anche come lo sport sia anche cultura e quindi soprattutto per i giovani, per le famiglie, questo è anche un percorso propedeutico per capire quella che è stata la storia non solo dello sport ma anche del costume italiano. Sì, assolutamente. Il nostro concetto è stato quello di mettere veramente un ordine cronologico ai cimeli, alle memorabilia che abbiamo affisso ai muri, con l'intento di raccontare una parte, anzi tutta la storia della nazionale associandola alla storia della nazione e quindi con lo spicchio di quella società in quel momento. Poi ovviamente cerchiamo di integrare la storia della nazione con le attività. Noi siamo molto aperti e abbiamo varie opportunità per quanto riguarda le scolaresche o i gruppi sportivi, per cui abbiamo la possibilità di fare anche delle sessioni di giornalismo, di alimentazione, parlando della piramide alimentare nel mondo dello sport. Quindi abbiamo diverse opportunità di interessare e di accrescere le conoscenze dei ragazzi nel mondo dello sport sotto vari aspetti. Una cosa che ho notato facendo un rapido sopralluogo, ognuno ha una maglia del cuore che non per questo deve essere la maglia in cui la nazionale ha vinto. Per me ho visto, ne parlavo con Gaia Simonetti che ringrazio dell'invito, è stato vedere la maglia di Ugo Ferrante, perché chi ha vissuto da piccolino il successo della Fiorentina, Ugo Ferrante era statuario, rappresentava un po' il paragone un po' azzardato, il nostro David. Però ci sono delle maglie significative, delle divise importanti, dei palloni, delle scarpe, le scarpe d'Antognoni, delle quali cantavano gli angeli. Se il direttore del Museo del Calcio desse dire, guarda, chiudo gli occhi, ne prendo una. È una scelta difficile, casomai posso fare una rosa di tre. Benissimo. Va bene, allora, nella rosa di tre da Fiorentino, quindi ci metto Antognoni. Antognoni 1982, i miei 18 anni, quindi è un campionato vissuto veramente alla grande per quanto riguarda la squadra nazionale. Poi ci metterei la maglia di Astori, la maglia di Davide, e infine metterei non una maglia, ma una coppia di cimeli, la pipa di Bearzot e la pipa di Pertini, perché due grandi personaggi della storia della nazione e dello sport si sono incontrati, si sono abbracciati, si sono ricordo della vittoria a Madrid del 1982. Questi sono, secondo me, gli oggetti a me più cari. Ecco, poi, ognuno di noi ha una storia, ha un momento che ricorda con più affetto e quindi qui lo può associare tranquillamente a un cimelio, perché ci sono dal 1910 ai giorni d'oggi, ci sono tutti. Infatti ricordiamo prima partita della nazionale contro la Francia all'Arena di Milano proprio del 1910. Ecco, per concludere, la nazionale come punto di arrivo, ma anche come punto di partenza, e il Museo del Calcio di Coverciano è una testimonianza visiva di quello che è l'appartenenza anche alla nazione, che sia uno sport meglio che altri valori in situazioni limite. La maglia azzurra e il tricolore non si possono fare altro che indossare e portare con orgoglio e rispetto. Noi abbiamo cercato di mostrare l'orgoglio di chi l'ha indossata, i valori che ha rappresentato nell'indossarla e quindi anche di promuoverli e il rispetto andando a posizionare tanti grandi nomi del mondo del calcio italiano. tremano i polsi, anche io mi volto e vedo tanti nomi grandissimi. Davanti a me ho Albertossi, Facchetti, Desisti, Salvadore, un campionato d'Europa vinto veramente in maniera anche un po' fortunosa con la monetina, ma insomma vinto bene. Ecco, Valcareggi, why not? Perché no? Insomma è stato lui, colui che ha portato questa squadra a vincere. Quindi i nomi sono tanti e ognuno di loro ha orgogliosamente indossato la maglia azzurra e portato il tricolore laddove li compete. Nell'anno degli europei di calcio, nell'anno delle olimpiadi, quale miglior auspicio per la nazionale e lo sport italiano? Incrociamo le dita perché il mondo del calcio è anche un mondo pieno di superstizione, per cui superstiziosamente non mi esprimo. Ringraziamo il direttore del Museo del Calcio Maurizio Francini e noi continuiamo il nostro escursus guardando queste sale e queste meraviglie che sono qui conservate. Grazie. Grazie a voi, buon divertimento e venite al Museo della Nazionale Italiana, al Museo del Calcio a Coverciano perché vale la pena trascorrere un'ora qui dentro. Grazie.